I profughi hanno bisogno di alloggio ma anche di lavoro che dà autonomia e dignità. Confindustria e Piacenza, che ha già partecipato alla raccolta e all'invio di medicinali ai confini ucraini, ora passa a una proposta più strutturata sulla base dell'ordinanza della protezione civile che apre la strada in questa direzione. E così l'ente di via 4 novembre ha inviato una lettera a tutte le aziende associate nella quale chiede se ci sono appartamenti liberi da offrire alle organizzazioni che si stanno occupando l'accoglienza e poi a fronte al tema dell'offerta di lavoro, andando a verificare se tra i colleghi imprenditori ci sia necessità o possibilità di inserire qualche figura all'interno delle aziende, privilegiando chi ha già operatori che parlano ucraino per facilitare l'inserimento lavorativo dei profughi.